Video wow video ecco come risolvere il problema quando la macchina tiene a regolare il minimo ma quando fai una salita va molto bene no perfetta che sarebbe la mia 1200 per corsa gpl benzina e andando gpl montagna va molto di più del dovuto cioè nel senso che 1200 va come sposte 1600 in contrario incredibile mentre sulla strada normale un po di non so che di mancamenti di potenza forse dovuto anche le candele no devo eseguire un tagliando cambiare l'olio le candele è buono però c'è un però come si risolve questo problema si taglia di netto si compra sai cosa una mini cooper 1600 16 valvole scorda mano questo è quello che tento di fare aspetta ancora un po magari due mesi e compro una mini cooper 1600 16 valvole poi ho notato e ho constatato che la macchina che mi si avvice di più che diventerai molto più carino di quello che sono no perché io sono ragazzo da mini cooper e non lo sapevo testando in certi posti la mini cooper hanno capito che la mini cooper mi si mi sta bene addosso come un vestito ecco e questo non ho mai notato incredibile e io non ho mai avuto una mini cooper perciò il mio capriccio sarà la mini cooper a natale ho ricevuto pochi regali allora faremo natale a primavera perché penso marzo aprile no di cambiare auto no quindi prenderò la mini cooper e mi farò un regalo come fossi a natale wow video e guarda che posso dirlo che bello che sono perché ho fatto i capelli anche poi da una parrucchiera poi mi sono riprogrammato un po da solo sono parrucchiere lo dico io sono dentro di me parrucchiere meccanico non c'è altro da dire ciao ciao wow video